Ehi ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus Ultimamente non so se è capitato anche a voi, siamo sempre qui su FIFA 18 Ma in pratica mi è andato un pochettino male la connessione Il succo e ho perso praticamente tipo 4 part... no, 3 partite ho perso E questo mi ha impedito di portarvi alcuni video perché in pratica dopo tipo 10 minuti mi cadeva la connessione e perdevo la partita Non so se è un trucco o qualcosa del genere, però sta cosa mi ha incuriosito Comunque sono riuscito ad andare avanti e a mantenere la quarta divisione Siamo ripartiti, ho fatto qualche partita, una l'ho vinta, un'altra l'ho pareggiata E quindi adesso andiamo avanti sempre con il nostro percorso Mi dispiaceva farvi iniziare completamente da capo Però diciamoci la verità, forse qualcosa è andata meglio perché in pratica... E' meglio perché in pratica la volta scorsa se non mi sbaglio abbiamo fatto tipo 5 punti in 4 partite Adesso l'abbiamo fatti 4 in 2 partite Naturalmente questo è un video che si mette un po' di like, un bel commento, un bel bacio Altra cosa importante, ho tolto il chiellini e ho preso Coulibaly quello IF87 Andrà meglio? Incrociamo i diti Ok E infatti Lasciatemi stare nella colana e fatemelo muovere Avete visto abbiamo tolto Acciellini E' una prova che voglio fare Magari ci porta bene Bravo Amasic Vai Amasic Mamma mia Allora Liqui Allora Grazie a tutti. Mai, mai una gioia, mai niente, proprio mai. Vai, bravo, spezziamogli le gambine a questo. Allarga, bravo, allarga di qua. No, meglio di no. Questo è buono. Ma secondo voi, Savic, è forte veramente, ma non nella realtà, nel gioco, perché io... Oh, non lo sa usare. Ah, c'è anche la... Bravo. Mera male che bonucci, è una pietra. È una pietra, eh. Dai. Ho visto... Bello. Ho visto che... Vai. Mamma mia, è troppo veloce questa. Zitto. Mamma mia. Volo d'angelo. Volo d'angelo. Dacast angelo. Mamma mia. E andiamo. Dai, dai. È morto Amsk. Sa terra, è morto. Alzati, cretino, alzati. Ma... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione. Bonucci, stavi anche davanti. Ma come fai? Ah, avevo fatto anche meno tiri in porta. Ah, ma non è che stiamo giocando vai tanto bene. Bravo. Ma c'hanno anche un culo tremendo. C'hanno in volta che tiriamo a noi tutti i rimpalli, prendo. Ma che ca... Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo non dovrebbe essere forte. Dovrebbe essere la nostra portata. Vediamo un po' se ce la facciamo. Bravissimo, Dagas. Teniamo alta la tensione. Ho detto Iguain, cioè... Da furiare alla porta la prende sempre. Oh! È mia, è mia. Ma è mia! Attenzione, bravissimo. Questa è nostra. Ok. Ok, alla grande. Ve l'avevo detto che... Era caldo, era caldo. Attenzione qua. Attenzione che qua ci fregano, eh. Che culo! Che culo! Vabbè, giustamente siamo stati fortunati. Noi sfortunati... C'è un po' di pre... Bravo, ok. Bravo, Gonzalo, eh. Grazie al canale! Grazie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.